Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Vale Animal Pet questo video è un video speciale, il primo video della lunga serie che farò ovvero il curiosità sui animali ora vi sto facendo vedere l'ornitorinco ma non c'è tra l'animale favoloso anche l'ornitorinco ma l'animale favoloso che andremo a vedere oggi nessuno di voi lo conosce ma ne vale davvero la pena se vi chiedete che giornale è questo si chiama Focus Junior nel video scorso era Focus Wild questo è Focus Junior non sono più abbonata, presto mi riabbonerò questo è un numero di due anni fa Focus Junior, divertiti scoprendo il mondo tenetevi forte perché questo strambo è anche brutto da vedere diciamo la verità questo strambo animale perché non è un ossetto né un batterio ma è proprio un animale scoperto da uno zoologo può resistere a un asteroide forse è l'ultimo animale rimasto sulla terra dopo una devastazione simile è microscopico e lento ma nessun altro animale ha dei superpoteri come i suoi qui possiamo vederlo da vicino ora appariranno le scritte delle diverse parti del corpo mentre io vi dico alcuni dei suoi superpoteri niente cibo? ok i tardi gradi vivono per più di 30 anni senza cibo né acqua rissecchiti ma vivi in circa 6 settimane invece noi uomini moriamo di fame in 6-7 giorni di sete non abbiamo mai caldo i tardi gradi resistono a temperature estreme da meno 272 fino a più 150 gradi gli orienti rinchi quindi sono animali fantastici più di qualsiasi animale si possa credere più 150 gradi un record impossibile per l'uomo e per qualunque altro essere vivente non abbiamo mai fretta i tardi gradi sono bellissimi ad adattarsi a qualunque tipo di ambiente tanto che potrebbero essere loro l'ultima specie vivente sulla terra tra 10 miliardi di anni i tardi gradi non si schiacciano mai pensate che possono resistere fino a una pressione pazzesca più di 400 volte la pressione atmosferica non basta schiacciare un tardi gradi l'uomo invece già sviene con una pressione pari a 30 volte incredibile ma vero pensate che in un millimetro quadrato ci stanno fino a 5 tardi gradi i sorprendenti orsetti d'acqua sono davvero minuscoli il puntino rossa qui a destra che ha una superficie di circa un millimetro quadrato ne potrebbe contenere fino a 5 belli appiccicati l'uno all'altro un altro fatto sorprendente dei tardi gradi ha a che fare con il dna il dna dei tardi gradi non è tutto farina nel loro sacco infatti il dna è dna dagli altri animali inoltre possono vivere più di 240 anni sembrano forme di vita aliena ma in realtà sono proprio loro i tardi gradi di sicuro batterebbe qualsiasi guinness world record pensate che non è finita qui i tardi gradi amano anche lo spazio gli scienziati li hanno portati sani e salvi oltre l'atmosfera terrestre cosa c'è altro da dire per questi animali sono i più fantastici animali esistenti sulla terra sembrano forma di vita aliena ma in realtà sono proprio qui davanti a noi incredibile quasi la metà delle persone non conoscono questi animali ma secondo me dovrebbero dedicare un commentario solo a loro guardate che cose incredibili riescono e possono fare come sono fatti poi è veramente incredibile spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video interessante su il mondo degli animali e della scelta